Dope, cappuccino news, direttamente da 2015, allora ecco le cose che non voglio 2015, amici di merda, allora non voglio più vedere quegli amici lì, cammini con la ragazza, saluti, prendati i giri che vai, no, lui, tuo amico, si gira, guarda il culo della tua ragazza, dentro il suo cervello, l'ha già messo in cento, amico, si fa tutto. Stanno mettendo in cento le nostre ragazze, cervellamente, hai capito, è gravioso, il mio italiano spacca, cervellamente, stanno mettendo in cento le vostre ragazze, state attenti ai vostri amici, se sei un amico mio, io ti saluto con la figa, vado, tu giri, guarda il culo, ti denuncio, imbecille. Sì, allora vi comunico, allora, 2015, io non voglio vedere nessuna figa, amore, dammi un bacio, e mi fa, no, sono appena truccato, dammi un bacio che in luce delle labbra non uccide, dammi la bocca. E poi, io, non mi sono spiegato bene, a queste femmine, quando io dico, dammela, non ti dico, sei una troia, non mi interessa, dammela. Cosa ci vuole? Dalla! 2015, niente figa di nene, scoppiamo, amici, scoppiamo, scoppiamo. E intanto c'è crisi, che la fai andare via? Che l'ha fatto venire, nessuno sa. Scoppa, sorella, cosa fai? Zebbe, altri news in arrivo. Eh! Non sapete che arriva? Aspetta, aspetta, vedrai. Gravioso! Ciao!